Nuova riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Durante l'incontro, tenutosi in Prefettura Salerno nella mattinata di lunedì, c'è stato un primo ok a 59 comuni della provincia e 6 associazioni di amministrazioni per ricevere i finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti per l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. L'approvazione preliminare, in attesa ad ulteriori verifiche da parte del Ministero dell'Interno, è arrivata per i progetti presentati anche da comuni cilentani e valdianesi, tra cui Camerota, Casalbuono, Castellabate, Montesano sulla Marcellana, Roscigno, Santa Marina e Sant'Arsenio, oltre a 6 associazioni di comuni, tra i quali Vibonati Torraca, Caselle Impittari, Buonabitacolo e Omignano Salento. Nel corso dell'incontro, il prefetto, Francesco Esposito, ha ribadito l'importanza della videosorveglianza per prevenire e contrastare i crescenti fenomeni di criminalità sui diversi territori della provincia, ma anche la necessità di fare rete associando più comuni, in modo da installare le telecamere o i lettori di targa lungo le direttrici di accesso ad aree geografiche più ampie per rendere il sistema ancora più efficace.